In Emilia Romagna si vota nella sola giornata di domenica 23 novembre per eleggere il Presidente all'Assemblea Legislativa della Regione. I seggi resteranno aperti dalle 7 alle 23 e terminate le operazioni di voto si procederà allo scrutinio. L'elettore dovrà presentarsi al seggio con un documento di identità valido e la testa elettorale. Chi non avesse la testa o l'avesse smarrita può richiederla all'ufficio elettorale del Comune di Residenza. Il 23 novembre si vota per le elezioni regionali. Io faccio un appello a tutti gli elettori di andare a votare. L'esercizio democratico è importantissimo. Tante persone hanno anche combattuto e perso la vita per questo importante diritto. Io invito a votare il Partito Democratico e scrivere a fianco al simbolo del Partito Democratico Bessi. Le mie scommesse che voglio vincere sono burocrazia zero, ruolo del porto di Gravena come porto dell'Emilia Romagna, agroalimentare, il turismo dalle nostre spiagge bellissime fino alle colline e al benessere, lo sport, le città d'arte e tutto ciò che ha reso il nostro territorio riconoscibile in tutto il mondo. Per questo scrivete Bessi a fianco al simbolo del Partito Democratico domenica 23 novembre per le elezioni regionali.